Gentili telespettatori, buona giornata, pensioni minime, nuovo aumento nel 2024, la circolare IMSS che dice che la pensione minima arriva a 614,77 euro, stiamo parlando di circa 20 euro al giorno, una pensione di circa 20 euro al giorno, un aumento di circa 50 euro rispetto all'anno scorso, che erano 567,94, perché c'è l'adeguamento dell'inflazione, 5,7%, portandolo a 598,61 e poi è stato riconosciuto un ulteriore incremento del 2,7% e si arriva così a un totale dell'8,4%, l'importo annuo ammonta a 7.992 euro, con un incremento di 609 euro rispetto ai 7.383 del 2023. Diciamo che quest'anno è come se ci fosse una mensilità in più, certo stiamo parlando di pochi soldi, perché oggi le pensioni dovrebbero, ma è un gioco così ipotetico, oggi una pensione minima dovrebbe essere tra i 1000 e i 1500 euro, il costo della vita di oggi dovrebbe portare a una pensione minima uguale a un salario minimo, oggi la pensione dovrebbe essere non meno di un salario minimo che non c'è. Se avevano ipotizzato un salario minimo di 1500 euro lordi al mese, con un netto di 1250-1260, anche la pensione dovrebbe essere non meno di 1260 euro al mese, in modo da far fare al pensionato anche un minimo di vita dignitosa, perché con 614,77 euro al mese se devi pagare la luce, il telefono, il riscaldamento, il canone della televisione, magari l'affitto, magari l'affitto, mi capite che non è sufficiente ovviamente. La circolare IMSS, che ricorda che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2024. L'incremento del 2,7% è dovuto alla norma contenuta nella legge di bilancio dello scorso anno, che ha stabilito che per le pensioni di importo pari o inferiori al trattamento minimo IMSS, in via eccezionale, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità, compresa la tredicesima, un incremento di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024. D'altronde voi direte che è poca cosa, però vi vorrei ricordare che il paese è sull'orlo del fallimento, il sistema pensionistico è praticamente già fallito, in alcune zone d'Italia i pensionati superano i lavoratori e si paga soprattutto il sorpasso non è solo numerico, ci sono più pensionati che lavoratori. Il sorpasso è anche proprio monetario, si paga più di pensioni di quello che entra dalle tasse sul lavoro. Quindi capite che il sistema pensionistico così com'è, con le pensioni minime a 600 euro, con i tagli alle pensioni più alte, la non rivalutazione in base all'inflazione per le pensioni più alte, questo porta comunque è un sistema fallimentare, oggi c'è un sistema fallimentare, in futuro ci sarà la riduzione delle pensioni e l'aumento dell'età pensionabile, non si potrà tornare indietro o cancellare la legge attuale delle pensioni che viene chiamata la legge Fornero semplicemente perché non c'è la possibilità di farlo, non ci sono i soldi. Ecco, è una popolazione che invecchia, ci sono sempre più persone pensionate e sempre meno giovani, sempre meno lavoratori. La popolazione italiana diminuisce anche, l'anno scorso è diminuita di 180.000 persone, nascite, decessi, persone che si trasferiscono all'estero, il totale di tutto questo è stato meno 180.000 e ogni anno si perdono numeri, città intere come se sparissero dall'Italia. In una situazione così fosca, una situazione così gotica, spettrale, c'è solo da prendere quei pochi soldi, quei 20 euro al giorno e cercare di farseli bastare. Certo che se uno avesse la casa di proprietà non dovesse pagare chissà che cosa, quei 617 euro te li fai bastare. Se fosse solo per comprare da mangiare, ma dovrai anche comprarti magari un paio di scarpe, dovrai comprarti un pantalone, dovrai magari pagare la luce, il riscaldamento al minimo? Ecco, insomma, diciamo che con questi 614,77 devi stare molto attento alle tue spese, molto molto attento. Questi soldi dovrebbero essere almeno il doppio, 614,77 ogni 15 giorni. Oggi dovrebbe essere perlomeno una pensione minima almeno 40 euro al giorno, non 20 euro ma 40 euro al giorno. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie. Ricordatevi Teleitalia Seconda Rete e poi i video di Teleitalia e Teleitalia Seconda Rete sono condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie a tutti.